Ehi, iscriviti al canale per non perdere i prossimi contenuti. La preghiera è uno slancio del cuore. Pregare non è dire preghiere, ma è stare la presenza di colui che ci vuole bene. Qui siamo nella Basilica di San Pietro. Allora, ecco, c'è questo slancio del cupolone verso l'alto e c'è questo abbraccio, l'abbraccio di Dio verso ciascuno di noi. L'abbraccio verso i miseri, i deboli, ma anche per ciascuno di noi. Allora, il Signore dobbiamo amarlo in maniera verticale e orizzontale. Verticale verso il cielo perché dobbiamo essere slanciati senza calpestare quelli che sono sulla terra, ma anche avere questo abbraccio. E la parola cattolico, cattolicos, significa essere universali, essere abbracciati a tutti, non significa essere chiusi. Dicono gli inglesi, open mind, open your heart. Cioè, apri il cuore, apri il tuo cuore e apri la tua mente. Allora, l'incontro con il Signore, l'incontro con il Risorto ci fa aprire il cuore, ci fa aprire la mente e ci fa aprire le braccia verso tutte le persone che incontriamo. Grazie.